Benvenuti in un nuovo video sul canale, oggi visiteremo la città di Polignano Amare. Grazie per la visione! 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 A Polignano Amare si conclude qua, adesso prendiamo il treno, andiamo a Monopoli e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi il vostro pollicione qui sotto al video ed iscrivervi al canale per non perdere i prossimi! Ciao ciao!